No perché l'hai capita no? La botte, la botte con i ghioli, facciamo botte, 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 cambi il modo di dire. Sì ragazzi, sì, vi svegliamo un segreto. È da un giorno intero che stiamo parlando di questa battuta, ovviamente non stiamo registrando video uno dopo l'altro, giusto? Giusto. E poi sto giocando con internet acceso sul computer. E quindi sono uno stronzo, no? Eh si sapeva. Che magari si disconnette. Buongiorno, tutti benvenuti alla fase finale della prima zona, perché sono quattro zone per quattro che fa sedici, per cinque categorie mi sa. Dopo ovviamente si bunda sempre all'oro, perché come dice l'antico proverbio, se sulla montagna trovi l'oro, in pianura trovi l'oro, torni in chiesa e ti abbatte il coro. Allora, accelera! Però, ok, mi stavo già schiantando. Non mollare qua, perché sennò si cade. Affanculo, va! Figa! Accelera! Dai che siamo vicini all'oro! Un po' a destra, un po' a destra, ancora, ancora, ancora. Ok. Due ropa! Dai che siamo vicini all'oro! Ce lo si può fare! Oddio! E là dovevamo andare tranquilli. Scialli. Scialli. Giù, giù, giù. Dovevo andare intorno al collo. Lo scialle. Andiamo un po' a destra, un po' a destra, un po' a destra, un po' a destra. L'altro, 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 l'altro. E allora perché mi dici queste cose? Ah, non sai cos'è il freno perché non lo schiacci mai. Sei un pirla! Quando arriviamo alla decelera, molla l'acceleratore. Dai dei colpetti. Ah, sì, sì, ancora. Di più. No, di più no, però andiamo fuori. Comunque, se tu non sai cos'è il freno, decelere un pochino. Ma va? Ma va? Ma va? Eh, se fa così a giocare i giochi, amico mio, è un po' a destra, gente. Sì, figa. Prima due gare, ho sbloccato 50 trofei, adesso un cazzo, va bene. Meno censure per me. Allora, ci siamo subito alla prima... Cos'è? Al primo... Eh, se non sai te! Ignorante! Alla prima fine di zona. E dopo vi faccio vedere, avete capito. E si punta sempre a loro. A loro. E sono connesso. Eh, sono connesso. Sono sempre connesso. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Ah, stavo girando subito io. Dai uno sportellato con la macchina lì di merda, cazzo. Ah, vai, ci passi in mezzo, gnoma. Cazzo Evans, tiragli una scombettata a quello lì. Mamma mia. Oh. Io faccio anche i versi, no? Sì, sì, giustamente. Perché così ci eccitiamo. Ah! Eh, perché ho bisogno di eccitarmi. Eh. Perché i miei iscritti hanno bisogno di eccitarsi. Eh. Guardassero il video di Dead or Alive con quella era nude. Cioè, nel senso... Oh. Dove devo girare? Secondo giro. Ma non l'avevo vista. Cazzo, è andato quello là con la medaglia d'oro? Non è che siamo lontani tantissimo. Ma, 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 ma. Tu, beh, non lo vedo più. Non si vede. Infine. Oh, corni. Oh. Oh. Ragazzi, mangiate anche voi i cereali culone. Cereali culone. E anche voi non diventerete un minchione. Un minchione. Bravissimo. Oh. Ma mai abbiamo accel... Decimera. Mantenuto la potenza incredibile della curva. Però ce la stiamo trovando anche abbastanza bene. Ora, adesso voleremo fuori dal gioco, proprio. Cioè, proprio la macchina va a finire su Mortal Kombat X. Però, si spera ovviamente in un arzento. È brutto quel pezzo qua, perché ho sempre cura di schiantarlo. Arzento, buono. Va benissimo. Yeah. Ragazzi, va benissimo così. Govitate, infatti. Allora. Vediamo qua. Buone notizie. Hai sbloccato dei nuovi tracciati. Buono. Adesso vi faccio vedere un po' quello che ci ha la prossima volta, credo. Giustamente, ragazzi. La prossima settimana ci sarà Down and Dirty Valley. Lo facciamo basso e sporco nella valle. Vabbè. Ovviamente è il seguito di Brokeback Mountain 2. Ahia. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Quindi sono quattro zone per cinque sezioni. Sezione bianca, sezione lanterna verde, sezione blumini, sezione rossa e sezione nera. E sarà quella più difficile. Anche perché abbiamo sbloccato soltanto due medaglie d'oro. Quindi a Daveni, quando uscirà la PlayStation 7, saremo all'ultima categoria della serie rossa. Senza parola, il bel uomo. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, che questi gran primi del Canyon vi siano piaciuti. E ci vediamo al prossimo. Appuntamento. Dillo più vicino. Appuntamento. Dillo intermedio. Appuntamento. Dillo in piedi. Vaffanculo. Ciao.